Apre i battenti domani la sessione invernale di calciomercato. Dopo le recenti decisioni di Consiglio federale e Assemblea di Lega di Serie A, la chiusura della finestra, inizialmente fissata per il 18 gennaio, alla vigilia della ripresa dei campionati professionistici, è stata ripristinata a fine mese e dunque alle ore 20 del 31 gennaio. In Casa Pescara c'è stato già un confronto tra il presidente Daniele Sebastiani, il direttore Giorgio Repetto e il tecnico Bepi Pilon per fissare le linee guida. L'aspetto più chiaro è che in essi saranno fatti una volta effettuate delle cessioni anche per liberare spazio nella lista degli over. I principali indiziati, oramai da diversi giorni, sono Andrea Cocco e Michele Fornasier, entrambi tenuti fuori dalla lista dei convocati delle ultime due partite. Il difensore mai impiegato da Pilon nella prima parte di stagione ha il contratto che scade tra 18 mesi, giugno 2020. Su di lui c'è l'interesse di diverse squadre della cadetteria, tra queste in pole position il Foggia, un po' più defilate ma non affatto tagliate fuori, ci sono Padova e Carpi. Su Fornasier però ci sono occhi anche dalla Serie C, il Monza di Gagliani e Berlusconi potrebbe puntare sul difensore Veneto per centrare la salvezza e metterlo nel progetto di futuro rilancio del club Brian Solo. Andrea Cocco invece ha il contratto in scadenza al prossimo giugno e qualche opportunità l'ha avuta a inizio stagione, salvo arenarsi dopo il rigore fallito a Brescia. Su di lui soprattutto club del girone B di Serie C che ambiscono al salto di categoria, dal Pordenone capolista alla Feral Pisalò fino al Vicenza e in quest'ultimo caso per Cocco si tratterebbe di un ritorno nel club dove l'attaccante ha lasciato un ottimo ricordo. Da valutare poi la situazione di Gaetano Monachello, il giocatore arrivato in prestito dall'Atalanta per trovare la stagione della consacrazione, ha fatto i conti con la discontinuità e con l'esplosione di Mancuso, ora praticamente intoccabile nel ruolo di centravanti, con gli spazi così ristretti l'attaccante siciliano, d'accordo con l'Atalanta, potrebbe anche chiedere di andare via. In entrata per il ruolo di centravanti il Delfino potrebbe puntare di nuovo su Gianluca Scamacca, corteggiato a lungo in estate ed il cui approdo è saltato in extremis perché non si fece in tempo a completare l'operazione, diventata last minute per le ritrosie del giocatore di proprietà del Sassuolo. Scamacca poi è finito allo Zwolle in Olanda, ma lì ha trovato poco spazio e ora vuole cambiare aria. Nel merino del presidente Sebastiani resta anche il centravanti di proprietà della Lazio, Alessandro Rossi, classe 97. Il giocatore assistito da Donato Di Campli quasi certamente sarà girato in prestito dal club di Lotito che prima dovrebbe prolungare il contratto che scade nel giugno 2020. Pescara è una destinazione gradita per il prestito. Infine, una ultima voce sul fronte delle potenziali uscite è quella che riguarda Ferdinando Del Sole. Nonostante la doppietta al Lecce, il giovane estero napoletano di proprietà della Juventus è stato impiegato poco da Pillon. Il suo entourage ha avuto dei contatti col Cosenza che in avanti fa leva sulla coppia Magnero-Tutino. L'operazione potrebbe prendere forma solo in caso ci sia possibilità maggiore di impiego nelle fila dei Silani.